Tre step, tre livelli di intervento per ripristinare e mettere in sicurezza il porticciolo di Donna Lucata. È quanto stabilito durante l'ultimo incontro tenuto alla Capitaneria di Porto di Pozzallo, servito a fare la quadra sul finanziamento di 3 milioni 800 mila euro nell'ambito della legge del terremoto di Santa Lucia. Riunione operativa alla Capitaneria di Porto di Pozzallo per affrontare tutte le questioni che riguardano l'opera infrastrutturale di Donna Lucata. L'incontro segue di poche ore la conferenza di servizio palermitana di cui il deputato Ibleo Orazio Ragusa ha riferito al sindaco Enzo Giannone ed utile a fare il punto sul nuovo progetto di funzionalizzazione del porticciolo come via di esodo in caso di calamità naturale in interfaccia con il porto di Pozzallo. Vale quindi la pena di precisare che via d'esodo, a differenza di via di fuga, è un canale di approdo che consente l'arrivo di imbarcazioni in caso di evento funesto. L'incontro, convocato dal capitano Pierluigi Milella, ha visto seduti attorno allo stesso tavolo la Capitaneria, il comune, presente il sindaco Enzo Giannone e l'assessore alla protezione civile Ignazio Fiorilla, il funzionario del libero consorzio di Ragusa Michele Geratana e i tre rappresentanti della marineria donalucatese. Primo tema, l'agibilità dell'attracco per i pescatori. Il comandante Milella ha dato disponibilità a una deroga per la propria ordinanza di divieto di attracco purché i pescatori producano una perizia barometrica a firma di un tecnico abilitato che individui un punto di attracco temporaneo. Secondo tema, l'utilizzo della draga per rimuovere alghe e sabbia che intassano la diga. Il comune e l'ex provincia hanno programmato e coordinato un intervento in vista della nuova stagione di pesca che disostruisca lo scalo. Terza questione, il progetto di messa in sicurezza. Nei giorni scorsi l'assessore regionale alle infrastrutture, Marco Falcone, ha annunciato la volontà della giunta di governo di appostare nuove risorse da aggiungere alle precedenti per un nuovo progetto che preveda il cosiddetto bypass, ovvero un moderno impianto sottomarino a mulinello che faciliti il transito della sabbia attraverso i bracci del porto. Su questo il comune si confronterà con il Dipartimento regionale di protezione civile nei prossimi giorni.